Interessante e costruttivo dibattito sabato sera presso l'auditorium Vescoviglia di Teggiano nel corso del convegno sul tema crisi economica e territorio, ruolo delle banche locali, organizzato dal Circolo Banca Montepruno, al quale hanno preso parte i rappresentanti del mondo dell'economia locale, della politica e della cultura. Dopo i saluti del Presidente del Circolo Aldo Rescinito e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Montepruno di Roscinio e Laurino, Antonio Ciniello, hanno preso la parola Pasquale Criscuolo, amministratore unico di Criscuolo Eco Petrol Service, membro di Confindustria, Antonio Pandolfo, responsabile dell'area crediti della BCC Montepruno e Francesco Vildacci, direttore della Federazione Campana delle BCC. Alla riuscita del dibattito hanno contribuito anche le posizioni politiche espresse dal consigliere regionale Donato Pica, mentre a chiusura dei lavori il Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Angelo Spinillo, si è soffermato sull'invito rivolto proprio al mondo dell'economia da parte del Santo Padre Benedetto XVI, in occasione dell'ultima enciclica in Caritas Veritate.